Ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme con la seconda parte della nostra trasmissione dedicata all'approfondimento e alle anticipazioni sul weekend sportivo e per questo ritrovo con piacere al mio fianco Diego Di Felice Antonio buongiorno Diego, anticipato questa settimana al sabato lo spieghiamo anche ai nostri amici da casa perché lunedì non ci rivedremo non ci ritroveremo in quanto la trasmissione di prima mattina di lunedì sarà dedicato al referendum, sarà una puntata speciale dedicata agli esiti al risultato del referendum costituzionale, si vota domani lunedì avremo tutti i risultati e li analizzeremo e commenteremo anche con diversi ospiti qui in studio in una puntata speciale appunto che durerà anche un po' più del solito per questo importante appuntamento elettorale dunque Diego era giusto vedersi oggi, anticipare il nostro appuntamento tradizionale quindi facciamo un po' le carte al weekend sportivo che sta per iniziare avrà inizio oggi pomeriggio con i primi anticipi il club domani, la domenica con il campionato di Lega Pro il Girone B che proprio da questo turno inizierà a giocare di domenica dopo il primo trimestre passato con le gare del sabato possiamo vedere subito in grafica il turno che ci aspetta grazie a Marco Pediconi in regia che ci aiuta l'unico anticipo di oggi del Girone B è la gara tra Parma e Bassano che si gioca alle 14.30 poi domani tutte le altre gare come detto San Benedettese-Modena, Fano-Venezia, Feralpi-Salò-Ancona Gubbio-Reggiana, Maceratese-Suttirol Mantova-Sant'Arcangelo, Padova-Pordenone e poi due gare alle 18.30 Albinoleff-Lumezzane e proprio quella del Teramo a Forlì trasferta Diego che sulla carta potrebbe ingannare perché il Forlì è ultimo in classifica insieme al Mantova però il Teramo innanzitutto ha dimostrato quest'anno che con le piccole fatica più del dovuto e poi questo Forlì viene da tre risultati utili consecutivi tre gare in cui ha conquistato cinque punti insomma sta dando qualche segnale di ripresa Certo, niente, il Teramo Alessandro è condannato a vincere perché questo trittico dopo mercoledì c'è la Maceratese Ricordiamo che mercoledì c'è l'infrasettimanale con la Maceratese e quindi queste due, almeno queste prime due partite la trasferta di Parma può essere anche un po' complicata però queste due partite domani con il Forlì e con la Maceratese il Teramo deve cercare di vincerle due squadre che sono sotto in classifica sono sotto in classifica anche se poi la realtà è un'altra perché le partite vanno giocate e quindi sicuramente non dobbiamo guardare la classifica perché Forlì è ultima come giustamente dicevi viene da tre risultati importanti e quindi sicuramente è galvanizzata e ci renderà la vita dura quindi non è una partita facile però noi dobbiamo andare se vogliamo perché allora dopo diventa complicato dopo veramente c'è da preoccuparsi anche perché come dicevamo il Teramo quest'anno ha mostrato diversi limiti contro le piccole lo stesso Mantua che adesso è ultimo insieme al Forlì è venuto a vincere a Teramo il Teramo ha perso in casa col Modena insomma che non se la passa poi così bene e come ha detto lo stesso Nofri ieri in conferenza stampa forse è una questione di atteggiamento di approccio anche alle gare il Teramo si carica di più con le squadre forse più blasonate che stanno in alto e sottovaluta gli impegni con le piccole io adesso non ci credo a queste cose sono tutte frasi nuove che sono uscite negli ultimi anni approccio, atteggiamento, no le partite secondo me sono tutte uguali vanno interpretate si va sempre in campo per vincere in conto della squadra è più forte la squadra è meno forte però poi alla fine devi combattere in mezzo al campo quindi devi andare lì per non c'è più quello spirito pugnante come si dice che c'era magari anni fa oggi siamo un po' molli un po' mollicci come si dice in mezzo al campo ci vuole muscoli, corsa concentrazione e qualsiasi partita può essere alla tua portata io non credo queste sono frasi che sono state inventate il Teramo la squadra un approccio sbaglia ma qual approccio? ci concentriamo tutta la settimana siamo in ritiro magari prima della partita nello spogliatoio perché si va già in concentrazione due ore prima perché siamo lì con la testa poi l'approccio non è l'approccio è l'avversario che ti prende la mano o tu che la prendi all'avversario quindi è sempre una questione in mezzo al campo bisognerà rivedere magari il Teramo di sabato scorso a Reggio Emilia che pur sconfitto comunque non ha sfigurato almeno lì da un punto di vista della reazione insomma qualcosa di buono si è visto sì però adesso vedi la solita storia spesso io anch'io nella mia piccola carriera spesso con le squadre più grandi facevo delle belle partite però poi puntualmente perdevo perché te la lasciano giocare la partita tu guarda il Pescara gioca sempre benissimo però non vince mai e io allora dico Oddo è bravo però magari un Castori che fa più il furbo che punta a spettacolo e l'anno scorso stava salvando il Carpi che secondo me era più debole dell'attuale Pescara quindi io dico che ripeto bisogna lottare la reggiana si domenica però oggi è una partita diversa noi il Teramo purtroppo non sappiamo fare la partita quando la squadra avversaria ti aspetta però secondo me quando ci danno gli spazi non è che poi facciamo molto meglio quindi è una squadra che secondo me non è così malvagia come può sembrare io ho fiducia però però ripeto al momento ci vuole qualcosa in più furbizie tattiche allenatore sanguigno scattiveri in campo noi per esempio manchiamo di leader noi non abbiamo un guerriero in mezzo al campo che trascina non ce l'abbiamo in difesa non ce l'abbiamo in mezzo al campo non ce l'abbiamo davanti come la vedo io poi è tutto finabile quindi quando c'hai dei guerrieri i guerrieri che ti prendono a parolacce riescono a trascinare tutta la squadra sì perché io mi ricordo una volta gente che prendeva per il Bavaro il compagno in mezzo al campo cioè c'era quell'attaccamento alla maglia oggi purtroppo queste cose non ci sono più purtroppo diamo qualche notizia appunto sul Teramo che dovrebbe scendere in campo domani a Forlì allora innanzitutto mancherà sicuramente Scipioni la società ha comunicato che Stefano Scipioni il terzino Teramano si sottoporrà ad un intervento chirurgico lunedì per la pulizia del tendine d'Achille un problema che si trascina ormai da tanto tempo e che ha condizionato anche il rendimento di Scipioni finora magari scelta anche giusta in questo momento visto che si va anche verso la pausa natalizia la pausa di gennaio dunque ci sarà anche tempo per il recupero e dunque giocherà Sales sulla corsia destra ballottaggio al centro tra Caidi e Manganelli con Caidi leggermente in vantaggio visto che Manganelli nelle ultime uscite qualche insomma qualche piccola pecca l'ha mostrata dovrebbe invece giocare dal primo minuto Carraro in mezzo al campo e questo Diego potrebbe essere un'ottima notizia un recupero importante per il Teramo certo Carraro è importante perché noi purtroppo in quel ruolo in quel settore in centro campo basso manchiamo un po' perché Peterman purtroppo con tutto il rispetto per il calciatore però ha dimostrato di avere qualche limiti in fase di costruzione non tanto alla tecnica che è abbastanza valida quando ha la rapidità di esecuzione oggi il metodista deve farsi vedere dal portiere dai difensori perché da lì si costruisce il gioco del calcio moderno quindi lui diventa diventava miele per le api avversarie per le punte che ti vengono a prestare in base di inizio dell'azione invece Carraro ha i piedi un po' più alla pirlo è più tecnico è un trequartista adeguato arretrato di qualche metro però la palla non se la fa rubare facilmente perché la sa gestire e poi c'è una certa visione periferica corta e lunga quindi riesce a vedere il gioco riesce mi auguro di imbeccare gli esterni Petrella e anche le punte perché è importante a Carraro ci saranno due scudieri come Ilari e Bulevardi che tenteranno di coprirli un po' anche le spalle davanti il reparto che è un po' più in sofferenza anche per quanto riguarda le assenze perché continuerà a mancare Jefferson mancherà anche Forte Croce in forte dubbio probabilmente ci sarà proprio per l'emergenza e quindi il tridente sarà sempre quello composto da Petrella e Di Paola Antonio ai lati di Sansovini sì ma noi dobbiamo giocare palla a terra non possiamo alzare la palla anche perché abbiamo ecco Forte non gioca va bene lo stesso Croce se gioca non lo so Sansovino Petrella non ha senso alzare la palla quindi dobbiamo andare avanti per palleggio cioè passaggi corti stretti con gente che si muove nello stretto sotto misura e quindi queste caratteristiche che il termine ce li ha quindi questo attacco imbeccato da un Carraro in più lo stesso Ilari è un giocatore ecco Carraro va protetto però perché Ilari si sbilancia molto quindi magari lo troviamo in più a sostegno degli attaccanti e meno a contenere perdiamo palla nella ripartenza veloce dopo rimane Carraro e lo stesso Boulevard si deve dare controllata perché è vero che è un giocatore di corsa di interdizione però qualche volta la sensazione che si ha che vuole strafare e magari va esageratamente a sostenere l'attacco e allora se lo fa lui lo fa Ilari poi perdiamo palla rimane Carraro ricordavi anche tu tra l'altro Diego che si apre una settimana di impegni ravvicinati Forlì domenica maceratese in casa nell'infrasettimanale di mercoledì e poi trasferta a Parma domenica prossima dove incontrerà il Teramo anche il nuovo allenatore Roberto D'Aversa che è stato assunto appunto dal Parma al posto di Apolloni dopo la rivoluzione tecnica e non solo questo trittico ma dicembre dicembre sarà un mese caldo perché al di là delle temperature climatiche perché sono ben sei giornate sei partite dunque prima del mercato poi di gennaio diranno molto queste partite anche sul futuro del Teramo certo innanzitutto ecco pensiamo a fare almeno quattro punti con queste due partite tra Forlì e Macerata dobbiamo fare almeno quattro punti poi ne vengono di più meglio però quattro punti dobbiamo fare anche perché poi in previsione la trasferta di Parma che comunque è in una fase calante però con il nuovo allenatore i giocatori ce li ha Parma è la storia del calcio italiano quindi però poi magari si va a Parma il calcio è così magari si va a Parma si vince a Parma e magari non riesci a vincere a Forlì perché il calcio è questo però intanto pensiamo a prendere questi punti che sulla carta sono alla portata dei Biancorossi e poi magari galvanizzati da questi risultati potremmo anche fare qualcosa di positivo a Parma certo l'ultima per chiudere la parentesi dedicata al terramo è proprio sul mercato di gennaio che secondo te dovrà portare una specie di rivoluzione in questo gruppo o magari soltanto degli accorgimenti mirati e se sì dove in quali reparti allora la rivoluzione nel modo più assoluto perché dopo diversi mesi oramai qualcosa si sta si sta nel terramo quindi molte cose che prima magari al ministero non erano così chiare adesso sono un po' chiarite quindi bisogna andare al mercato ecco la domanda che ci fanno proprio anche da casa su questo argomento mister secondo lei al mercato di gennaio il terramo come dovrebbe muoversi stavi proprio rispondendo su questo sì dovrebbe muoversi con molto con criterio cioè non dovrebbe sfasciare tutto perché non bisogna buttare l'acqua con tutto il bimbo dentro come si dice in gergo bisogna operare ripeto con il metodista per avere un carraro in più davanti così tu guadagni il carraro magari lo riporti quindi per tornare ad un modulo con il trequartista dietro le due punte sì non era poi così sbagliato quel modulo di Zauli con un carraro trequartista con un metodista però poi ci vuole un Desailly se qualcuno si ricorda un giocatore di interdizione di grande filtro perché non ci serve per forza un pirlo perché poi il pirlo ce l'hai qualche metro più avanti si sviluppa più avanti quindi lì sei coperto e quindi fai dai manforte alla difesa fai filtro alla difesa gli arrivano palle filtrate e poi secondo me ci vuole un bel difensore sinistro che sappia attaccare ma senza esagerare ma che sappia difendere perché non possiamo rimanere in fase di attacco con due centrali che poi non sono così veloci i fulmini di guerra nella velocità Caidi e Speranzo chi per loro quindi dovremmo avere tra Scipioni che sicuramente dopo sarà guarito e rientrerà e Dorazio Dorazio servirà anche Dorazio però uno dei due deve essere più basso rispetto all'altro deve dare manforte ai due centrali altrimenti la coperta rischia di essere troppo corta con l'interditore sembra che diventa il quarto difensore di centro campo chiarissimo chiarissimo Diego quindi questa è la tua ricetta i tuoi suggerimenti per il mercato di gennaio e lasciamo dunque adesso la Lega Pro per spostarci in Serie D anche qui campionato nel vivo per quanto riguarda il San Nicolò alle porte due trasferte consecutive quella di domani a Castelfidardo contro una squadra che lotta per non retrocedere quella di mercoledì invece poi nell'infrasettimanale a Vasto contro la Vastese lì sarà veramente un big match questo intanto è il turno in programma domani per la quattordicesima giornata Alfonsine Vastese Campobasso Monticelli Castelfidardo San Nicolò Iesina Civitanovese Agnonese Recanatese Pineto Chieti derby abruzzese valido per la salvezza Romagna Centrofermana San Maurese San Marino e Vispesaro Matelica allora Diego prima di entrare nel dettaglio del turno io ti farei ascoltare quanto ha dichiarato i nostri microfoni in settimana il tecnico del San Nicolò Massimo Epifani dopo la vittoria di domenica scorsa contro l'Agnonese è proprio in previsione della gara di domani a Castelfidardo ascoltiamo Epifani terzi in classifica tre punti dalla capolista dieci risultati utili consecutivi sono i numeri che la dicono lunga sullo stato di salute del San Nicolò sì sono dei numeri importanti costruiti nel tempo e fanno piacere però bisogna continuare perché il calcio purtroppo ti porta sempre ogni domenica a degli esami e quindi ci portiamo dietro questo trend importante che sicuramente ci fa lavorare bene a livello mentale e fa credere sempre di più in delle certezze però bisogna continuare perché il camminato è molto difficile impegnativo adesso ci sono due trasferte consecutive sì abbiamo due trasferte di cui la prima è molto difficile perché è un campo insidioso io assomiglio molto alla trasferta come quella di Iesi Castelfidardo è una partita difficile è una squadra che si deve salvare poi viene da una sconfitta e quindi sarà una partita difficilissima da affrontare e quindi la dobbiamo preparare bene perché poi in una settimana avremo tre partite e quindi sarà una settimana impegnativa la condizione di tutti i giocatori c'è qualcuno febbricitante e poi in particolare come sta Napolano? Napolano sta facendo degli accertamenti speriamo che il ragazzo lo possiamo recuperare il prima possibile vediamo è un giocatore che manca già da tanto tempo e quindi anche con il mercato aperto dobbiamo capire anche cosa dobbiamo fare a questo punto possiamo dire che il San Nicolò punta all'alta classifica? ma questo credo che non ci siamo mai nascosti di fare un campionato di vertice forse qualcuno all'inizio quando abbiamo fatto qualche pareggio già ci aveva messo un po' la croce addosso però la squadra ha lavorato sempre bene ha fatto quello che deve fare stare lì davanti adesso ci fa molto piacere però questo è un campionato che si gioca tutto il giorno di ritorno perché cambiano gli scenari col mercato adesso di dicembre molte squadre cambieranno pelle e quindi vediamo quello che succederà al giorno di ritorno adesso abbiamo cinque quattro partite impegnative fino alla sosta e poi cercare di fare un grande girone di ritorno Diego anche in Serie D non c'è un attimo di tregua il San Nicolò come ricordava il mister nell'intervista chiuderà il girone d'andata con quattro partite difficili la prima appunto quella di domani a Castelfidardo insidiosa contro la squadra allenata da Gianluca De Angelis insomma un San Nicolò che non può abbassare la concentrazione nonostante i dieci risultati utili consecutivi ma sì San Nicolò è condannato adesso è condannato a vincere perché si è scoperto per venire questa è la classifica del girone sta lì San Nicolò è una squadra che ripeto l'abbiamo già detto in altre trasmissioni è una squadra che ha tutti gli ingredienti per salire di categorie sono organizzatissimi Epifari stava dicendo un attimo fa che magari sarà un campionato diverso il giro di ritorno perché le squadre si rafforzeranno dubbiamente giusto è già stato qualche movimento nel girone però chi c'ha l'amalgama che ha raggiunto con anni di lavoro e il San Nicolò ce l'ha sono San Nicolò dovrebbe non possono cambiare l'equilibrio nel mercato di riparazione certo mettiamo il caso che altre squadre si rinforzano però poi per metterli insieme non è detto che poi riesci a far bene perché hai portato nuovi elementi poi bisogna amalgamarli e San Nicolò oramai come si dice gioca di concerto sono insieme da anni si parlava di Napolano che poi è assente ma chi se ne accorge perché la squadra i risultati arrivano ugualmente arrivano ugualmente la squadra gioca bene lo stesso gioca bene è una squadra umile caparbia decisa allupata tatticamente perfetta tecnicamente brava l'allenatore lavora hanno voglia di salire deve fare un piccolo secondo me deve stare attento perché spesso i volendieri fuori casa due o tre gol ogni basso per vincere le partite allora io dico magari è come scoprire l'acqua calda quando si va in vantaggio tenete duro un po' di più perché dopo un po' arriva sempre il secondo gol però questa è una caratteristica che il San Nicolò sta imparando a sfruttare perché quest'anno sta vincendo anche delle partite senza magari brillare o giocare benissimo con l'Agnonese è stata molto cinica con l'Agnonese è stata cinica ma anche in precedenza altre due vittorie in casa contro San Maurese e anche se non ricordo male l'Alfonsine probabilmente insomma partite non brillanti ma tre punti portati a casa come dice il buon Castori io una piccola perché ecco si parla molto questo non c'era niente però alla fine bisogna vincere le partite perché dice Castori ma perché dobbiamo per forza fare il calcio moderno partire impostando dalla difesa e quando io magari ho dei giocatori che dopo due passaggi si fanno rubare la palla e ci fanno gol io con un lancio trovo la prima punta e poi salgo dietro questo lancio e mi ritrovo nell'area loro il calcio antico però che frutta sempre quindi bisogna essere cinici anche sotto questo aspetto assolutamente sì parlavamo del mercato e dicevo prima Diego che qualche movimento già si sta registrando nel girone F di Serie D particolarmente attivo il Pineto che ovviamente deve risollevarsi da una situazione di classifica non felicissima e che domani è un'occasione unica contro il Chieti squadra ormai quasi già condannata alla retrocessione nonostante ancora siamo alla fine del girone d'andata praticamente il Pineto ha ingaggiato l'attaccante Roberto Palumbo dal Gravina un 23enne che ha segnato negli ultimi due anni ben 41 gol con Rosseto e Potenza dunque un rinforzo importante davanti e poi un centrocampista di spessore come Marco Mariani proveniente dalla Fermana ex Giulianova anche in passato e pare che sia in conclusione anche la trattativa per l'acquisto di Marco Pomante difensore di esperienza di spessore pescare all'Aquila insomma si sta muovendo la squadra pinetese per consegnare rinforzi che servono ad Amaolo potrebbe insomma cambiare il campionato del Pineto dopo questa campagna di rafforzamento ma io sono convinto perché innanzitutto glielo auguro perché ho tanti amici a Pineto nel calcio Broccoli e gli altri insomma abbiamo fatto tante volte a dirello giovanile ho avuto modo di giocare contro questa squadra e oltretutto hanno un grosso allenatore Amaolo Amaolo è bravo ha bisogno di qualche rinforzo se arrivano questi giocatori che hai che hai menzionato io penso che il Pineto non avrà problemi di salvezza poi ecco come dicevi giustamente la partita di domenica con il Chiedi viene proprio a proposito proprio nel momento giusto perché loro si trovano così così il Chiedi oramai penso che sia una squadra spacciata quindi vincere con il Chiedi rinforzarsi e poi penso che per Amaolo e company non ci saranno problemi di salvezza a proposito di rinforzi una notizia giusto per completezza di informazione nell'altro girone degli Abruzzesi dove il girone G con Aquila e Avezzano proprio l'Avezzano ha preso Tommaso Marolda in attacco l'attaccante richiesto a gran voce da Tortora negli ultimi tempi la società gli ha regalato Tommaso Marolda è un bel regalo nonostante l'età insomma un giocatore comunque può sempre spostare gli equilibri sì ma Marolda malgrado l'età però è un giocatore asciutto nevrile non è pesante come giocatore quindi sanguigno di grande movimento poi ci vuole la voglia poi avere l'età se c'è la voglia come un bambino un ragazzino il famoso sempre ritorno sempre al fanciullino se dentro sei sempre giovane si superano anche gli acciacchi si supera tutto però di avere quella voglia quindi l'età è relativa poi ripeto Marolda è un giocatore che ha fatto sempre gol poi è stato a terra me lo conoscevo benissimo e ci fa piacere anche è torto sicuramente non lo sbaglia perché di punte se ne intende si è chiamato Marolda quindi è sicuro di quello che gli può dare Marolda andiamo adesso a vedere cosa accadrà nel weekend in eccellenza anche qui tantissimi movimenti di mercato già molte squadre attive prima vediamo il programma della quindicesima giornata tutta domani capistrello al badriatica Martinsicuro Francavilla il big match di giornata prima contro seconda Miglianico Cupello Montorri 88 Penne Paterno Acqua e Sapone Angolana Miternina River Chieti Morro d'Oro San Salvo San Buceto e Virtus Teramo Nero Stellati dicevamo Diego tanti movimenti di mercato anche qui la Virtus Teramo è proprio tra le squadre maggiormente attive con due colpi già messi a segno e che colpi verrebbe da dire perché i nomi sono di tutto rispetto Micolucci per rinforzare la difesa e Pigliacelli per l'attacco il primo proveniente dal Pineto Pigliacelli invece dal Ponte Evomano insomma la squadra Teramana ha capito che forse mancava qualcosa doveva puntellare qualcosa nei vari reparti probabilmente non saranno gli ultimi innesti è andato a pescare puntando sull'esperienza beh sì sono due giocatori di spessore di sostanza quindi ha fatto bene perché la Virtus è una buona squadra l'abbiamo parlato altre volte questa è la classifica dell'eccellenza sì chiaramente qualcosa gli mancava in difesa con Micolucci quindi sicuramente si rafforza e io penso che con questi due acquisti potrà sicuramente risalire la classifica e dare le giuste soddisfazioni alla società e al presidente non è una partita facile quella di domani perché arrivano i nero stellati la squadra di Pratola che è quarta in classifica ed è una delle maggiori sorprese di questo campionato Pratola Peligna i nero stellati e sì però ecco io credo sempre nel gioco io credo sempre in quel momento bisogna essere attenti in quei 100 minuti che sei in campo quindi se tu ieri sera abbiamo visto la partita Napoli-Inter li ha trittati nello spazio di 10 minuti l'Inter si trova ancora nello spogliatoio e quelli già vincevano 2-0 quindi però il Napoli stava meglio in classifica dell'Inter nel caso della Virtus è diverso però la Virtus è una squadra costruita discretamente bene e con questo soprattutto è una squadra solida solida perché negli ultimi tempi nonostante questa serie di pareggi che sta innellando comunque le permettono di muovere la classifica ma dimostra comunque di tenere botta contro chiunque è una compattezza un'amalgama cioè una squadra robusta tetragona quindi fuori caso il Pundicino lo prende magari prende gol a qualche minuto dalla fine poi riesce poi è chiaro deve stare attendo come domenica scorsa che l'aveva vinto quella partita e per un errore di riparto hanno regalato due punti che potevano essere ancora più importantissimi per la classifica un po' anemica che ci hanno anche le altre terramane che sono coinvolte nella lotta salvezza Montorio e Morrodoro si stanno muovendo il Montorio ha perso Carrato che era un po' il faro di centrocampo giocatore molto interessante che è tornato alla Miternina ma lo ha sostituito con Rinaldi che è un ritorno tra l'altro in casa montorriese tanti movimenti invece a Morrodoro che sta un po' rivoluzionando la squadra dopo un difficile avvio sono arrivati il portiere Modesti poi altri tre giocatori Gianmarino di Sante e Cichetti mentre ha perso Melchiorre che è tornato alla Torrese Di Giacomo di Gianberardino e Gian Sante insomma anche il campionato di eccellenza nella finestra di mercato di dicembre spesso vede grandi movimenti e rivoluzioni spesso in molte squadre che possono portare anche ad un campionato nuovo nella seconda parte della stagione certo ma Morrodoro e il Montorio dovevano fare queste operazioni perché chiaramente la classifica sfittica li costringono i dirigenti a muoversi in questo modo oltretutto sono due squadre nostre quindi ci fa particolarmente piacere se riescono a tirarsi fuori in modo particolare il Montorio perché è una squadra che non è mai retrocessa poi c'è Sandro De Santisi che è un terramano direttore sportivo quindi sicuramente opererà bene che tra l'altro domani è uno scontro diretto una partita importantissima perché ospita il Penne squadra attualmente ultima in classifica anche se squadra sempre temibile perché come abbiamo già visto insomma anche si sta rinforzando ma soprattutto da quando è tornato Savini sulla panchina è tornato a fare punti a muovere la classifica Savini è un vecchio marpione del calcio direttantistico oramai pure lui si è vicino ai 70 penso che è una vita allenatore di grande esperienza di grande esperienza un tipo un po' come si dice alla Castori sanguigno sanguigno che riesce ad unire il calcio di una volta con il calcio moderno quindi sa quello che vuole quindi ma ripeto le partite è un po' per il Montorio contro il Penne è un po' come il Pineto con il Chiedi esatto però il Chiedi è messo peggio esatto ma abbastanza diverse però il Montorio deve vincere questa partita perché se no la situazione si complica un po' e chiudiamo anche per quanto riguarda il capitolo dell'eccellenza la promozione la sfideremo soltanto perché voglio ricordare che ci sono anche lì movimenti di mercato importanti ad esempio a Santomero è arrivato il bomber Enzo De Rosa attaccante che negli ultimi anni alla nuova Sant'Egidiese ha contribuito con valanghe di gol alla risalita dalla terza categoria fino alla promozione attuale dunque giocatore conosciutissimo in vibrata che potrà dire la sua anche in casa Santomero anche il Real Giulianova si sta muovendo rinforzandosi ulteriormente ha preso l'attaccante Barlafante dal Cologna e oggi nell'anticipo c'è proprio Cologna Real Giulianova insomma anche lì situazione in grande movimento Diego questo è il quadro della giornata attuale appunto che si apre con due anticipi oggi Santomero Mociano che seguiremo anche direttamente poi trasmetteremo sulla nostra emittente e Cologna Real Giulianova poi domani tutte le altre con Torrese e Luco per la squadra di Mister Maiorani che vorrà rialzarsi dopo il K.O. nello scontro diretto contro il Real Giulianova siamo agli sgoccioli io voglio ricordare anche gli appuntamenti che riguardano le squadre di basket partendo dal derby di Serie A2 domani grande spettacolo a Roseto caro Diego perché c'è Roseto Chieti gara attesissima molto sentita si prevede ancora un altro tutto esaurito al Palamaggetti visto anche che la trasferta è stata consentita ai tifosi del Chieti dunque gara molto molto importante mentre per scendere in Serie B e lo vediamo anche con la grafica nel girone C Teramo sarà impegnata domani nella trasferta difficilissima sul campo di una delle battistrada del torneo Valmontone quindi partita molto molto difficile poi ci sarà un turno infrasettimanale anche nel campionato di Serie B di basket giovedì Teramo affronterà Napoli al Palace Capriano e Napoli è un'altra delle prime della classe dunque momento calendario non proprio favorevole per il Teramo che viene comunque da un periodo favorevole per quanto riguarda invece il girone D della Serie B c'è il Campli che è chiamato ad una trasferta a Perugia contro il Val di Ceppo sulla carta partita alla portata dei Farnesi che stanno facendo molto bene mentre Giulia Nova è impegnata nello scontro in questo caso sicuramente più complicato contro la capolista Monte Granaro anche i campionati di basket stanno vivendo la fase finale del girone d'andata e dunque le classifiche iniziano a delinearsi un po' meglio caro Diego mi veniva da sorridere prima perché mi sembrava di essere tornato ai tempi dalla scuola che scomiglio di basket sono legato però mi hai promesso che inizierai a studiare qualcosa ad informarti un po' di più anche sulle nostre realtà gestistiche no mi sembrava di essere nei tempi della scuola quando mi interrogavano in matematica e facevo scena muta ma io qui non ti sto interrogando spero che non mi interroga sono un professore benevolo perché conosco le pecche degli alunni però adesso studierai studierò sicuramente cercherò di essere un pochino all'altezza all'altezza no però sapere qualcosa e magari già dalla prossima puntata proveremo anche ad approfondire qualcosina di basket che è un sport bellissimo sport bellissimo la sera vedevo una partita il camionato di Coppa dei Campioni l'Eurolega di basket che è un grande spettacolo in Russia non lo so comunque vinto in trasferta però l'ho vista perché è una godura per vedere quei blocchi quei tagli che poi il calcio ha rubato ecco tu che sei un grande amante della tattica e dei particolari nel basket li trovi molto e subito li collego all'area di rigore all'altro e quattro avversario perché poi gli spazi sono più là però il calcio ha rubato tantissimo è diventato più bello perché ha rubato tanto dal basket certo allora Diego noi ci salutiamo qui io volevo farti vedere quelle foto se era possibile che noi abbiamo già mostrato nel servizio è andato in onda lunedì sera durante Super Goal della bella manifestazione che avete realizzato voi amici del calcio terramano la scorsa settimana Biancorossi per sempre tu hai portato delle foto giusto così magari mettiamole a favore di camera vediamo se Marco riesce a far vedere qualcosa stringendo su queste foto le premiazioni dei terramani eccola qua c'è Bruno Pace noi tre che abbiamo organizzato Avvocato Gebbia tu Vincenzo D'Antonio vediamo Marco Franci poi c'è Marco Franci c'è Diego Ioannoni e Erbete Romani che erano festeggiati anche loro e di qua invece c'è il grande indipendicabile Diego Gianattasio l'altra foto che ci hai portato l'indipendicabile Diego Gianattasio premiato da Italo Canaletti presidente del CONI di Teramo è benissimo abbiamo ricordato anche questo bel evento che avete prodotto sabato scorso so che ne avete altri in programma ma quando sarà insomma a tempo debito ne parleremo dobbiamo recuperare un po' perché siamo un po' stanchi benissimo grazie Diego nuovamente per essere stato ancora in nostra compagnia grazie vi ricordo dunque quanto già avevo detto all'inizio che lunedì non ci occuperemo di sport come facciamo solitamente ma la puntata di prima mattina sarà interamente dedicata al referendum con uno speciale proprio sui risultati della consultazione elettorale di domani per oggi è tutto io vi ringrazio come al solito per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti